1. Buonasera a tutti e a tutti. Scusate di ritardo, ma c'era il nostro socio Moreno che faceva difficoltà a collegarsi. Bentornati a tutti sul nostro canale YouTube, il canale dell'Accademia San Marco. Ricominciamo, riprendiamo il ciclo di videoconferenze che ha una cadenza all'incirca e cerchiamo di mantenere questa regolarità. Dopo l'ultima volta in cui ci siamo addentrati nel profondo sud dell'Italia con la riserva naturale di Pantana di Cuba, cambiamo completamente il scenario, restando però nella natura e ci spostiamo all'estremo nord dell'Artico, in Canada. Relatrice di questo intervento, questa oggi, questa sera, è l'architetto Analisa Marini. Buonasera Analisa. Buonasera a tutti. Intanto un grazie all'Accademia San Marco per l'invito e per l'opportunità di far conoscere poi un personaggio particolare che mi sta molto a cuore, che è una ricercatrice botanica e una creatrice di rose. Quindi grazie. Grazie a te Analisa. Ho detto architetto, forse avrei dovuto dire architettrice, visto che parleremo anche di gender gap, come dicono. No, no, architetto. Paisagista, così. Sì, sì. Allo devo al fatto che il genere femminile è sempre sottostimato, è sempre sottoanalizzato, così sia un ambito disciplinare, no? E quindi, ecco, questa sera esploreremo questa figura che ha avuto un rilevo importante nel suo ambito disciplinare e che grazie a Analisa comprenderemo più a fondo. Lascio al socio amico collega accademico Moreno a dire due parole su Analisa, anche perché loro due condividono un'attività professionale in parte, un percorso di lavoro. Lascia a te Moreno dire due parole su Analisa. Allora, buonasera a tutti. Analisa è appunto un architetto anche abbastanza particolare come traiettoria di interessi, dalla laurea in poi siamo passati dal solare ai giardini affrontando cose, tra l'altro insieme affrontiamo anche progetti appunto di progettazione e pianificazione del paesaggio e quindi ha anche una particolare sensibilità sulla dimensione del territorio. Il territorio e il paesaggio sono una specificità che non tutti gli architetti riescono ad avere e a volte lei ha anche questa capacità di approfondimento su alcune questioni. La questione di oggi è quella delle rose che la vista negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, più di dieci anni, interprete anche di un'attività che vorrei che tu raccontassi prima di partire a raccontare del tema principale dell'incontro di oggi, che è quello del Mira, la costruzione di un catalogo, un rosetto che fa da catalogo che è diventata un'esperienza importante all'interno della cultura dello spazio pubblico, perché si tratta di un giardino pubblico condiviso, gestito come associazione e quindi questo fa vedere anche come il volontariato, che è un altro dei temi che interessano a Alisa rispetto alla questione del paesaggio, assuma un ruolo importante all'interno della società contemporanea e quindi se ci puoi parlare, prima di parlare di queste altre esperte di rose, di questa tua esperienza di rose e quindi di architetto, quindi di modellatore anche di uno spazio come quello che è stato fatto a Pordenone. Bene, in brevissimo il fatto che io parli di rose deriva proprio da un progetto, dal progetto di quello che tu hai citato prima, il Mira, il Museo Itinerario della Rosa Antica, che è nato nel 2010 ed è stato inaugurato nel 2011, proprio perché l'idea era di far conoscere a un pubblico ampio la storia della rosa, cioè l'evoluzione del genere rosa. Alla fine questo è in realtà un museo all'aperto, non ci sono quadri ma soggetti vivi che sono i rosai. Una volta realizzato il rosetto poi, che è appunto un percorso che segue la storia evolutiva del genere rosa nel Parco Galvani, diciamo che ho avuto l'idea e soprattutto la necessità, per poterlo far sopravvivere, di creare e di raccogliere e dar vita a un'associazione di volontariato, naturalmente, la Compagnia delle Rose, che adesso è del terzo settore, quindi la Compagnia delle Rose APS, che con tutto un gruppo di tanti soci volontari valorizza, promuove le attività che riguardano rosetto e cercando di farlo conoscere attraverso visite guidate, attraverso delle azioni di manutenzione, di piccola manutenzione, con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole di agraria ad esempio e con altre, diciamo, iniziative. Ecco, questo perché chiaramente far conoscere l'ambito del verde, ma noi siamo partiti dall'ambito delle Rose Antiche, da cui un po' la necessità mia da architetto, ma di studiare un po' il genere rosa e un po' le Rose Antiche e imbattermi anche in certi particolari personaggi come quello di cui vi parlerò oggi. Chiaramente, dimmi. Questa cosa di attivare azioni di ricerca, di progettazione e poi di indagine storica è una cosa che non è però comunissima nel mondo della progettazione e dell'architettura, quindi è una cosa anche un po' particolare. Da dove arriva? Beh, intanto arriva da una passione di gioventù, perché evidentemente, sì, architetto, e sono partita lavorando nell'ambito tecnologico delle energie alternative nel 1977, quindi tu pensa, e la mia laurea riguarda, diciamo, interventi di energia solare per produrre energia per i centri storici nel 78, quindi parliamo di un'era geologica fa. Poi la passione per il verde e per le piante mi ha portato a lavorare nell'ambito di paesaggio e poi del territorio. Devo dire anche grazie a tua per il territorio. E chiaramente queste cose, quando ti avvicini a un progetto, secondo me, come nel caso di progettazione di paesaggio, devi studiare, in questo caso la botanica. Devi studiare le piante, non puoi improvvisare e progettare senza sapere che hai a che fare con soggetti, come dicevo prima, vivi, che si trasformano, che interagiscono con il clima, con l'ambiente, anche semplicemente con il luogo dove sono piantati. Perché ad esempio le rose, noi sappiamo, se ti muore una rosa non puoi piantarne un'altra nello stesso posto, perché non sopravviverebbe. Quindi persino il buco, il luogo dove viene piantata la rosa, la condiziona. Perciò immagina anche nel dover progettare un percorso di rose antiche, tutte diverse fra loro, appartenenti a famiglie diverse, con caratteristiche diverse, è stata una bella sfida. E quindi, diciamo, anche il tema del volontariato, di creare questa base di conoscenza in persone che hanno la passione, ma magari non le conoscenze adeguate, quindi creare questa base di conoscenze per poter poi dar vita a questa associazione e anche dar vita a iniziative e ad azioni che partono dai cittadini per la cura di questo bene pubblico, che è in questo caso il Mira, ma non solo, perché noi abbiamo creato anche il giardino Mille Petali per il Cro via via, non l'abbiamo donato. Quindi il verde come motivo di, diciamo, di azione collettiva, del bene collettivo, ma anche del benessere, perché in realtà quando lavori col verde, lavori anche per il benessere delle persone, benessere psicofisico. Quindi c'è tutto insieme. Ma secondo te esiste una capacità attrattiva particolare da parte della rosa per avere questo atteggiamento di esplorazione a ritroso sui temi storici. Un comune amico come il compianto Paolo De Rocco aveva anche lui questa passione per andare a cercare i trattati. Cioè è così in tutti gli architetti del paesaggio per qualsiasi specie, per qualsiasi tipo di pianta, oppure la rosa ha un significato particolare che attraversa la trattatistica degli architetti dei giardini in modo particolare. Beh sì, perché certamente tante piante possono avere fascino e stimolare la ricerca, la curiosità, lo studio, ma la rosa è qualcosa di simbolico, è veramente un simbolo. È un simbolo nell'arte, nella pittura, nella musica. Cioè ha addirittura anche il senso della vita, perché la rosa nasce, è spinosa, quindi rappresenta anche le difficoltà della vita. Poi muore, si secca, sfiorisce. Nell'inverno vedi questi rami spinosi che sono un po' repellenti, cioè non ti avvicineresti al ramo spinoso della rosa, però poi rifiorisce d'estate e a maggio con una meraviglia, quindi ti dà speranza, ovviamente in tutti l'iconografia storica, religiosa, cioè anche letteraria, non ne parliamo. Quindi è un qualcosa che è affascinante perché lo puoi incontrare e lo puoi studiare da diversi punti di vista, da quello botanico, letterario, musicale, da tanti punti di vista. Cioè è un qualcosa direi che ti apre moltissimi orizzonti. Forse questo è il nocciolo del suo fascino, perché ciascuno di noi può avvicinarsi alla rosa in maniera diversa. E per fare un discorso che poi continueremo di genere, quindi in questo caso questa lettura al femminile, secondo te ci sono atteggiamenti di genere diversi tra l'atteggiamento di un architetto del paesaggio maschile rispetto alla, ma anche nelle ricerche che hai fatto per quanto riguarda i selezionatori e i creatori di nuovi tipi di rose. Ci sono veramente due mondi separati che corrono dietro alla rosa, ma che rimangono con prospettive diverse, oppure in realtà la questione di genere non esiste? Se non per le cose che poi ci racconterai, cioè per alcune difficoltà. Ti dirò che in realtà, io tra l'altro avevo cominciato, mi ero incuriosita rispetto al fatto, perché ho conosciuto ibridatori di rose maschi e anche ibridatrici femmine, importanti di nomi tipo la Beatrice Barni, italiana, che è una dei massimi ibridatori italiani, e anche altri. Però devo dire una cosa, che in realtà a livello mondiale la maggioranza degli ibridatori noti, noti intendo che hanno messo il loro nome nel deposito del brevetto di nuove rose, sono maschi. Questo perché? Perché probabilmente nasce molto in là della ricerca che poi mi sono messa a fare dai primi dell'ottocento, scusa, dai primi dell'ottocento in poi, e in realtà erano gli uomini, se pensiamo nell'ottocento, chi lavorava nei vivai, era il titolare del vivaio, era il maschio. Dopodiché c'era questo genere, il titolare era... Dopodiché aveva la moglie, la figlia, le collaboratrici, lavoravano, facevano anche loro queste creazioni di rose, in questo caso, però in quest'ambito il nome era sempre maschile. Potevi avere il nome femminile quando poi le mogli diventavano vedove, o in altri rarissimi casi, ma veramente rari, dove appunto il nome femminile viene messo nel brevetto della rosa e quindi la rosa è di Beatrice Barni, per dire. Ecco, però questa è stata una cosa abbastanza recente, ma normalmente questo non c'era e io mi sono messa a fare una cosa che mi piacerebbe proporvi magari più in là, proprio una carellata di tutte le donne ibridatrici che ci sono state nella storia della rosa, a livello mondiale, è una cosa e non ne trovi tantissimo, sì, ce ne sono, andando a spizzicare nelle enciclopedie, nelle riviste, nei libri, le trovi, però non hanno avuto quell'enorme successo dei maschi, non hanno avuto. E quindi a maggior ragione io ho voluto proporvi questa figura di ibridatrice, di creatrice di rose, di scienziata, di scientist nel campo botanico, proprio perché è uno dei casi in cui non è moglie, figlia, collaboratrice di, è lei la creatrice delle rose. E quindi mi è piaciuta moltissimo. Va bene, direi che possiamo allora partire con la conferenza. Tra l'altro venuta in mente a proposito di donne misconosciute e di rose, Rosalind Franklin si chiamava la cristallografa scienziata che non ottenne il Nobel per la scoperta doppia erbrica che andò invece a Jesmy Kripke, aveva un nome legato, ovviamente lei legato alla rose. Allora, adesso mando in streaming la presentazione di donna Lisa e noi ti lasciamo. Ci vediamo dopo. Quindi io posso andare avanti con la mia presentazione. Per la pura, che gli spettatori vedono la tua presentazione. Perfetto, benissimo. Chiaramente il mio racconto si baserà soprattutto sulle immagini, perché via via le commenterò, ma parlando di rose, devo mostrarvi le rose, chiaramente. Allora, partiamo dal perché rose di Estotilandia, perché vi sarete chiesti cosa c'entra questa Estotilandia. In effetti il tutto nasce da una mia lettura. Infatti qualche anno fa presentai con l'autore Andrea Di Robilant un suo libro molto particolare che vedete qui nell'immagine in copertina, Irresistibile Nord. Questo libro narra, con una ricerca approfondita fatta da Di Robilant, le avventure piuttosto controverse poi di due personaggi veneziani, i fratelli Nicolò e Antonio Zen, che erano navigatori, commercianti, figure di spicco della vita veneziana del XIV secolo. Questi due in particolare si dedicarono, con delle vicende poi incredibili, leggendo il libro che è simpaticissimo, anche interessante, si dedicarono all'esplorazione dell'Atlantico del Nord e dei mari artici attorno al 1390. E secondo i loro racconti, tutto questo toccando l'America circa cento anni prima di Cristoforo Colombo. Parliamo del Nord America. Ecco, questa che vi vado a mostrare è la mappa di Zeno o carta di Zeno. Una mappa dell'Atlantico del Nord, pubblicata per la prima volta nel 1558 a Venezia da Nicolò Zen, un discendente di Nicolò Zeno, che naturalmente è italianizzazione dei veneziano Zen, uno dei fratelli Zen, di quei due che erano andati in giro per i mari del Nord. Questa immagine è una riproduzione della carta di Zeno in un libro del 1793. Il giovane Zen, pronipote dei due, pubblicò la mappa insieme a una serie di lettere, affermando appunto di averle scoperte in un magazzino della sua casa di famiglia a Venezia. Secondo Zen, la mappa e le lettere risalivano il 1400 circa e probabilmente descrivevano questo lungo viaggio effettuato dai fratelli Zen nel 1390 a servizio di un principe che i due Zen chiamavano Zikmni. I sostenitori della leggenda di Henry Sinclair, primo conte delle Orcadi, di cui si parla nel libro Desistibile Nord, suppongono che questo Zikmni sia semplicemente un errore di trascrizione di Dorcadi. Quindi lo scrittore di Robilan, di questo libro, va a cercare le notizie sulle orme di questo Henry Sinclair. Questo viaggio dei due fratelli Zen probabilmente attraversò senz'altro l'Atlantico del Nord e secondo alcune interpretazioni, interpretazioni raggiunse anche il Nord America. Quindi dai racconti, dalle ricerche raccolte da Di Robilan, questo Antonio Zen raggiunse questo luogo chiamato Estotiland, che io ho italianizzato in Estotilandia, le rose di Estotilandia. Secondo la mappa di Zeno, Estotiland sarebbe situata nella propagine, come vedete, propagine orientale del Canada che si affaccia sull'Atlantico, la vedete cerchiata in rosso, al posto tipo del Labrador del Quebec di Terranova, in quell'area lì. Su diverse mappe viene riportata questo Estotiland. Cerchiata in rosso, la vedete in una mappa di Sebastian Münster del 1544, poi sull'Atlante, nell'Atlante di Abramortelius, che indica Estotiland del 1570, in un'altra indicazione sulla carta della Nuova Francia del 1660. Quindi effettivamente queste antiche carte riportavano questo luogo un po' mitico, perciò qualcosa di vero doveva esserci. Ma direte, cosa c'entra Estotilandia con le rose? C'entra e c'entrano pure i navigatori artici. Ora, vedete queste tre immagini, ma cos'hanno in comune tra loro queste tre immagini? Beh, intanto la neve, ecco. In alto il Canada sotto la neve, poi in basso a sinistra la Svezia, a destra la Russia orientale. Queste appartengono alla fascia climatica che ha interessato Felicita Sveida, la nostra ricercatrice, la nostra botanica. Lei si è interessata di questa fascia climatica nelle sue ricerche botaniche, specie nel campo delle rose. Ma chi è questa Felicita Sveida? Che voi vedete qui in un'immagine di quando era già ormai anziana, con quest'aria un po' birichina sotto questo simpatico cappellino. Beh, Felicita Sveida nasce a Vienna, viennese, tutta ad un pezzo. Nasce a Vienna l'8 novembre del 1920 e lì studia presso l'Universität für Boden Kultur, l'Università di Agraria in pratica, dove consegue il dottorato in Ingegneria e Scienze Agrarie nel 1948. Dopo la laurea lei rimane all'Università di Vienna, dove lavora come assistente di ricerca in economia agricola dal 1947 al 51. Poi decide di trasferirsi in Svezia e lì lavora per un anno presso l'Associazione Svedese per la selezione delle sementi. Lì erano interessati all'agricoltura, infatti lavora presso un centro di ricerca botanica, Svelof, che è diventato in seguito Weibull Svelof AB, concede a Svelof una piccola cittadina che voi vedete nella mappa qui sotto, dove c'è il puntino rosso, la mappa di Google, vedete dove c'è questa piccola cittadina nel sud della Svezia. Però questa piccola cittadina e questo centro vivono una lunga storia di successo nella selezione delle piante, delle sementi, delle sementi svedesi, piante per l'agricoltura naturalmente. E lì Felicitas lavora nell'ambito della selezione delle sementi svedesi, coniugando teoria e pratica e qui accumula una notevole esperienza. Tanto che per questa sua esperienza viene assunta nel 1953 dall'azienda centrale sperimentale, Central Experimental Farm, del Dipartimento Federale Canadese dell'Agricoltura, il Canadian Federal Department of Agriculture. A Ottawa lì, che poi vedete qui in questa bella, purtroppo non ha una bellissima risoluzione, ma era un disegno di questa stazione sperimentale, quindi proprio campagna, perché si dedicavano naturalmente allo studio delle piante per l'agricoltura. Lì a Ottawa, in Ontario, si stabilisce Felicitas e lavora in questo centro sperimentale come statistica nella divisione cereali dal 1953 al 1960. Nel 61 viene finalmente trasferita al Genetics and Plant Breeding Institute Ornamental Section, cioè l'Istituto per la ricerca genetica e ibridazione delle piante, nella sezione ornamentali. Felicitas all'inizio si era dedicata allo studio della creazione di nuovi ibridi anche in piante arbustive, la vaigheglia e altre piante, cioè non soltanto rose, ma poco, perché poi anche delle particolari piante di arancio amaro, ma delle cose un po' strane che evidentemente non l'hanno particolarmente appassionata. Poi si dedica principalmente lì alla ricerca del campo delle rose, anche forse perché il direttore dell'epoca era un appassionato di ibridazione di rose, talvolta capita. Al centro sperimentale, in un programma di sviluppo di rose per il mercato canadese, che è quello che le viene richiesto, incrocia soprattutto rosa rugosa, che prospera nei climi nordici, che la vedete in alto. Se voi andate nei paesi nordici, tipo da Danimarca in su, la trovate come pianta infestante anche ai bordi dell'autostrada. Ecco, poi con rose di tea ibride, poi che sono generalmente resistenti al freddo, con rose arbustive, notoriamente molto resistenti alle basse temperature e vigorose, come ad esempio la rosa acicularis, che è una rosa artica, e la rosa cordesi, da Cordes, che è stato il primo suo creatore tedesco. Ecco, queste particolari tre rose sono quelle che in qualche modo hanno dato origine alle rose create da Felicitas Veda. Felicitas ha studiato attentamente la genetica delle rose perché era una tipa molto pignola, molto strutturata e quindi non voleva lasciare le cose al caso, approfondiva gli argomenti. Le ha studiate, ha studiato attentamente la genetica delle rose e tra l'altro ha basato le sue scelte ibridative non solo sui dati scientifici, ma anche sullo scambio di informazioni con ibridatori amatoriali, perché ovviamente aveva capito che anche dal punto di vista amatoriale si potevano creare e trovare delle nuove rose molto interessanti e quindi erano sempre informazioni in più. Quindi Felicitas scrisse non sapevo nulla delle rose, questa è stata una benedizione perché non avevo idee preconcette e ho dovuto imparare. Questa è una bella cosa perché nella ricerca non avere idee preconcette apre degli scenari veramente interessanti e ampi. Felicitas crea rose per climi estremamente difficili. Sì, le chiedono rose che devono resistere ai climi freddi, ma intendiamoci per freddi si intende resistenti ai freddi inverni canadesi a meno 50 gradi centigradi, quindi temperatura alle quali tutte le rose che noi abbiamo in giardino, vediamo in giro nei giardini qui, morirebbero. E prosegue per 33 anni a creare dei rosai, delle rose che sono ancora coltivate in tutto il mondo, in particolare dove il clima sarebbe ostile alle rose, cioè parliamo di tutti i paesi della fascia nordica, Scandinavia, Svezia, Norvegia, anche Danimarca, cioè Russia, al nord della Russia, Canada, diciamo tutta la parte nord del globo dove normalmente le rose che noi abbiamo in giardino non sopravviverebbero. Quindi lei si dà da fare e parte con i suoi programmi di creazione di rose. A partire dagli anni 60 e 70, tra l'altro lei dice, creo queste rose, ma ha rifiutato le norme consuete di giardinaggio, dice mi rifiuto di coccolare le mie piantine, infatti nessun fertilizzante, nessun pesticida e nessuna copertura durante l'inverno. Uno pensa a povere rose, di conseguenza però solo i suoi ibridi più forti sono sopravvissuti e sono diventati genitori di altri. A queste prime rose, come vedete dall'immagine e dai nomi sotto e alle successive, è stato dato il nome di famosi esploratori, famosi esploratori artici, perché questi primi visitatori del Canada hanno dovuto capire come sopravvivere all'inverno. Quindi lei pensò di dare alle sue rose questi nomi. Le rose quindi chiamiamole sotto zero ad arbusto, create da Felicitas Sveida. Lì accanto vedete nell'immagine tutta una serie di nomi che vanno da James Monk e finiscono a George Vancouver. Sono rose ad arbusto, accanto vedete le genitrici, cioè praticamente le rose da cui derivano, che sono ibridi cordesi oppure ibridi di rugosa, di rosa rugosa. E da queste lei ricava le altre, le sue rose. Credo che si sia bloccata momentaneamente la connessione. Ecco, Annelisa? Sì, sono qui. Ecco, era un attimo partita la tua connessione, adesso sei tornata. Sono tornata, benissimo. Quindi stavo parlando delle rose sotto zero ad arbusto. Vedete qui l'elenco, vedete sotto quelle che sono ibridi cordesi o rugose, perciò già con questi incroci era riuscita a crearne almeno una ventina. Poi, non solo perché, né ibrida anche, crea anche delle rose rampicanti, diciamo in maniera volgare, tra virgolette, o semplice, volgare, semplice rampicanti, ma o arrampicabili, arbusti arrampicabili. Ma per i profani di rose le chiamiamo tutte rampicanti, ma si suddividono, in maniera semplificata, in climber e rambler, le rose rampicanti. Cioè, quelle che sono, come le climber, che sono rose con rami piuttosto rigidi, eretti, e portano un numero tutto sommato esiguo di foglie con fiori grandi, sono quasi sempre mutazioni di ibridi di tea o floribunda, e hanno una caratteristica importante che è la rifiorenza. fioriscono a maggio e poi rifioriscono in autunno. Però le rambler, che invece hanno fiori più piccoli, ma sono numerosi, sono spesso riuniti a mazzetti, hanno le foglioline più piccole, e non sono rifiorenti, però hanno delle fioriture, uniche fioriture veramente spettacolari, e possono ricoprire tetti, avvolgere interi alberi, sono generosissime e vigorosissime. Vi sarà senz'altro capitato di vedere, ad esempio, una bansia lutea, quei rosai che hanno quei mazzetti di roselline gialle, sono enormi, però fioriscono soltanto a maggio. Dunque, Felicitas crea le nuove rose e dà loro il nome degli esploratori artici. Cominciamo con, e le chiama la serie Explorer, proprio esploratori. Questa è la prima, una delle prime rose, la rosa Jen Munch, è una cultivar ibrida rugosa coltivata dal 1964. Poi quando vedete scritto coltivata o creata, c'è una differenza, perché viene, la rosa viene creata in un determinato momento, ma poi, fino ad arrivare al momento della coltivazione, possono passare, come vedremo di dire dopo, diversi anni, perché c'è un testare la pianta finché rimanga stabile, diciamo così. Ecco, quindi coltivata dal 1964. Chi era questo Jen Munch? È nato ad Arendal nel 1579, è morto nel 1628 a Copenaghen. È stato un navigatore, esploratore danese, nato in Norvegia, dove il padre, Eric Munch, aveva ottenuto numerosi feudi per i suoi successi nella guerra del nord di sette anni. Munch, Jens Munch, divenne famoso per i suoi tentativi di trovare il mitico passaggio a nord-ovest, per raggiungere l'India. Tentativi che furono sostenuti dal re danese Cristiano IV, che vediamo appunto nell'immagine, dove c'è Munch in udienza con il re Cristiano IV, probabilmente andava a chiedere fondi per fare queste sue esplorazioni. Munch è ricordato anche come uno dei primi esploratori europei a per illustrare appunto la regione artica del Canada. Pensate che questa rosa è talmente resistente che la Swedish Rose Society la consiglia proprio per la Svezia settentrionale, quindi pensate a che climi deve resistere. Altra rosa, la Martin Frobisher, che è sempre una cultivar di ibrida rugosa, creata da Sveida nel 1968. Questo Sir Martin Frobisher, giustamente per gli inglesi, nasce più o meno attorno al 1535-39, muore attorno al 1594, fu un corsaro inglese che fece tre viaggi nel nuovo mondo alla ricerca del famoso e mitico passaggio a nord-ovest. Nonostante non abbia mai raggiunto il passaggio, è diventato comunque famoso per aver scoperto la baia di Frobisher nella regione di quella che è l'attuale Terranova, Labrador, in Canada, che lui credeva erroneamente essere la via per l'Oriente, invece è diventata solo la baia di Frobisher. Poi abbiamo un personaggio veneziano, eccolo qui, allora, John Cabot, la rosa John Cabot, una rosa ibrida cordesi creata da Sveida nel 1969. Questa rosa prende il nome da John Cabot, st'inglesi, ma in realtà Giovanni Cabotto, in veneziano Juan Cabotto, praticamente nato attorno al 1445-50, morto circa, torno al 1498. E chi lo sa è stato un navigatore, esploratore della Repubblica di Venezia, lo vediamo sotto in quel bel dipinto del 1762 che si trova a Venezia in Palazzo Ducale, ed è stato un navigatore, esploratore della Repubblica di Venezia, al servizio di spagnoli e inglesi, ed è noto per aver continuato l'opera di Cristoforo Colombo, esplorando anche lui il passaggio a nord-ovest. Cercandolo, in particolare con il viaggio commissionato dal re Enrico VII d'Inghilterra, in questo viaggio lui tra l'altro colonizzò, nel 1497, colonizzò le coste del Nord America. Quindi è un personaggio noto, tra l'altro anche di origine veneziana. Abbiamo un'altra rosa, e questa è la rosa Charles Albanel, una rosa ibrida rugosa che Shveida creò nel 1970. In questo caso la dedica a questo Charles Albanel, nato nel 1616 e morto nel 96, che era un sacerdote missionario gesuita. Voi direte, vabbè, ma non era un esploratore. Invece no, nel 1649 arrivò a Tadoussac, nel Quebec, quando la compagnia della Baia di Hudson stava appena iniziando le operazioni, guidò un gruppo che andò lungo il fiume Saguenay, il lago Mistassini e il fiume Ruper, via terra, primo europeo, fino alla Baia di Hudson, rivendicando la regione per la Francia. Quindi, in realtà, anche lui era un esploratore. Dopo essere tornato proprio in Canada nel 1676, prestò servizio in una missione, era il suo lavoro, nel Canada occidentale, prima di morire a Sol-Saint-Marie. Quindi una rosa dedicata a un esploratore missionario. Abbiamo la rosa David Thompson, poi, qui una cultivar sempre di ibrida rugosa. Le prime erano, come vedete, quasi sempre cultivar ibride di rugosa, ibridata da Shveida nel 1970, dedicata a questo David Thompson, che vedete nell'immagine qui sotto. Thompson nasce nel 1770, muore nel 1857, è un commerciante di pellicce, quindi, certamente, è un esploratore, perché deve esplorare i territori dai quali poi ne ricava il suo commercio. Però era anche geometra e cartografo anglo-canadese, noto ad alcuni nativi con un nome abbastanza buffo, Cucousint, lo chiamavano i nativi locali. Nel corso della sua carriera, Thompson ha compiuto un'impresa veramente storica, ha viaggiato per circa 90.000 chilometri attraverso il Nord America, mappando circa 4,9 milioni di chilometri quadrati lungo il percorso. Confido che questi dati siano giusti, mi sembrano veramente giganteschi, però effettivamente era appassionato a questo suo lavoro di cartografo e geometra. nonostante però questi risultati molto significativi, purtroppo Thompson morì a Montreal quasi sconosciuto il 10 febbraio del 1857 e i suoi successi proprio quasi non riconosciuti, misconosciuti. A volte nessuno è profeta in patria, come si dice. Qui abbiamo la rosa Henry Hudson, una cultivar ibrida rugosa coltivata dal 1970. Questo Henry Hudson è stato un esploratore, navigatore inglese. Si suppone sia nato nel 1570 e scomparso nel 1611. Nel 1609, mentre era al servizio della Compagnia Olandese delle Legne Orientali, famosa compagnia di commercio, Hudson navigò verso il nord, lungo la costa atlantica del Nord America e risale il fiume, che chiaramente ora porta il suo nome, il fiume Hudson, fino a quello che è l'attuale New York. Questo viaggio praticamente contribuì all'inizio della colonizzazione europea dell'area e anche alla fondazione della città di New Amsterdam, che poi successivamente divenne quella che noi conosciamo come New York City. Più tardi, nel 1610, Hudson intraprese un altro viaggio. Purtroppo, dico io, ma un altro viaggio alla ricerca del mitico passaggio a nord-ovest. Ma un anno dopo, nel 1611, nel corso di un ammutinamento del suo equipaggio, stanco e affamato, probabilmente congelato, nella baia di James, nel mar glaciale artico, fu abbandonato a bordo della nave dove verosimilmente morì. Quindi una fine tragica. E questa rosa lo ricorda. Un po' glaciale. Poi abbiamo questa rosa John Franklin, questa cultivar di un rosa, molto vivace, quasi un magenta, ibridata nel 1970. Questo sveida le vie del nome di questo Sir John Franklin, nato nel 1786, morto nel 1847, un ufficiale della Royal Navy britannica ed esploratore dell'Artico. Durante la sua terza e ultima spedizione, proprio ultima, nel giugno del 1847, nel tentativo di attraversare anche lui questo benedetto passaggio a nord-ovest verso le Indie, attraversando il Canada, morì. Le navi rimasero bloccate dal ghiaccio e molto probabilmente l'intero equipaggio morì di fama e ipotermia e non se ne seppe più nulla. Quindi anche qui una fine tragica, perché questi esploratori spesso ci rimettevano alla vita. Abbiamo poi la rosa Champlain, una cultivar di rosa ibrida cordesi, rosso ciliegia, creata nel 1973, introdotta sul mercato nel 1982. Pensate quanto po' di tempo insomma anche tra la creazione e la sua introduzione sul mercato. Samuel de Champlain era costui nato a Brouage nel 1567, muore a Quebec nel 1635. Anche lui un esploratore, un cartografo e anche scrittore francese. Dopo un viaggio nel Messico, tenuto a cavallo della fine Cinquecento, prima del Seicento, fu aggregato alla spedizione del Pongarré al Canada nel 1603 e arrivato al San Lorenzo, al fiume San Lorenzo, penetrò nell'interno fino alla regione dell'attuale Montreal. Continuò le sue esplorazioni fino allo Huron, all'Ontario, altri grandi laghi e conosciuto come il padre della Nuova Francia, fondando alcune città come Montreal e Quebec, dove morì proprio il giorno del Natale, nel 1635. Un'altra rosa, la J.P. Connell. Ecco, questa è una cultivar del 1973 che appare come una rosa ibrida di tè al suo sbocciare, bianca, con sfumature gialline, introdotta sul mercato nel 1987. Come vedete, anche dall'immagine sotto, questo signore non era certo un esploratore. Questa rosa, infatti, è l'unico membro della serie Canadian Explorer a non portare il nome di un esploratore. Chi era questo J.P. Connell? Nato nel 1926, morto nel 1212, quindi non molto tempo fa. È stato un noto funzionario pubblico canadese che ha servito come vice ministro dell'agricoltura negli anni Ottanta. E perché Sveida gli dedica una rosa? Beh, perché probabilmente, siccome c'era un pericolo che le togliesero i fondi per la ricerca sulle piante ornamentali proprio al centro di ricerca alla farm dove lei lavorava, evidentemente ha ricevuto sostegno, ha perorato la sua causa, ha ricevuto sostegno da questo vice ministro dell'agricoltura a cui poi, visto che i fondi sono arrivati, ha dedicato questa bella rosa. Poi abbiamo una rosa cultivar di rosa ibrida Cordesi, quindi sempre da quelle create da Cordes, un colore rosa intenso creata nel 1974 e introdotta in Canada nel 1983. È considerata una delle più resistenti create da Sveida. Chiaramente alcune sono più resistenti di altre. William Buffin, beh, William Buffin nel 1584 nasce, muore nel 1622. Anche lui è un navigatore, esploratore e cartografo, inglese, è noto soprattutto anche lui per il suo tentativo di trovare un passaggio a nord-ovest, dall'Atlantico al Pacifico. Naturalmente questo era l'obiettivo che quasi tutti gli esploratori artici si ponevano, questo mitico passaggio a nord-ovest. e durante questo viaggio fu il primo europeo a scoprire questa baia che lui aveva scambiato per il passaggio, invece era la baia, che da lui prese il nome baia di Buffin, appunto, situata tra il Canada e la Groenlandia, come potete vedere sulla carta geografica. Lui fu anche responsabile di rilievi eccezionali da tutt'altra parte, quindi nel Mar Rosso, perché era un cartografo, e del Golfo Persico, sempre per conto della Compagnia delle Indie Orientali. Abbiamo poi la rosa John Davis, dato che Felicitas Feida ne aveva fatte diverse, a ognuna dedicata a un personaggio, è bene che io ve le racconti. Rosa John Davis è una cultivar di rosa ibridacordesi, rosa, introdotta sul mercato nel 1977 e considerata la migliore tra le prime rose canadesi che Shveida sviluppa. Questo John Davis nasce a Sandridge nel 1550, un esploratore inglese, e muore sullo stretto di Malacca nel 1605 e compì tre importantissimi viaggi alla ricerca del passaggio a nord-ovest, servì come pilota e capitano in spedizioni inglesi e olandesi nelle Indie Orientali e inoltre fu uno scopritore dell'arcipelago delle Folkland, quindi per gli inglesi un personaggio notevole, importante per la storia inglese. Poi abbiamo la rosa Captain Samuel Holland, una rosa ibridacordesi di colore rosso-medio, non è fortissimo, ad arbusto, ibridata nel 1981. Questo Captain Samuel Holland nasce nei Paesi Bassi nel 1728 e muore a Quebec nel 1801. Nella sua attività di ufficiale dell'esercito, ingegnere militare, geometrae, perché funzionario, si dedicò alla mappatura di tanti territori, diversi territori del Nord America, in particolare dell'attuale Canada. Nel 1767 propose agli esploratori britannici di cercare il famoso passaggio a Nord-Ovest dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, però la sua proposta non fu mai presa in considerazione, ma morì a Quebec nel 1801. Questo passaggio a Nord-Ovest effettivamente è stato il chiodo fisso di tutti gli esploratori artici. Allora, vediamo perché adesso ecco, ecco, sono riuscito a non andare avanti. Poi abbiamo qui la rosa Frontenac, una rosa cultiva di ibrida cordesi, colore rosa intenso, creata da Sveida nel 1981 e introdotta sul mercato nel 1993. È dedicata a questo Louis de Butade Bowad che era nato nel 1622, muore nel 1698 e con tutta la pomposità conte di Frontenac e di Paolao. Fu un conte francese che compì svariate imprese nella Nuova Francia della quale divente anche governatore. La sua famiglia era originaria del sud-ovest della Francia e lui nel Nord America fondò anche una serie di forti sui Grandi Laghi e si impegnò anche in una serie di battute contro gli inglesi perché si combattevano inglesi e francesi e contro lì i rocchesi che erano appunto i nativi. Abbiamo poi un'altra rosa la rosa quadra una rosa ibrida cordesi creata da Sveida nel 1981 introdotta sul mercato nel 1995 ed è dedicata a questo personaggio che vedete nel ritratto Gian Francisco della bodega I Quadra nato nel 1743 1794 morto un navigatore sudamericano nato a Lima in Perù questo ottenne un alto grado nella marina spagnola esplorò le coste della California e del Pacifico nord-occidentale fino all'Alaska e quindi costruì una carta speciale di queste coste in qualità di commissario spagnolo poi negoziò con George Vancouver una regolamentazione delle questioni territoriali tra Spagna e Regno Unito lungo la costa nord-occidentale del Pacifico perché chiaramente arrivavano tutti lì questi esploratori e i vari stati e naturalmente se li contendevano quindi fece firmare nel 1790 il trattato di Notka una località dell'odierna isola di Vancouver quindi è da lui appunto George Vancouver questo nome la rosa de Montarville allora la rosa de Montarville eccola qui una rosa ibrida cordesi creata da Sveida nel 1982 col dottor Jean Ogilvy dedicata a questo Pierre Boucher de Boucherville secondo signore di Boucherville primo signore di Montarville quindi nobile è stato un colono soldato ufficiale naturalista funzionario governatore e nobile francese della Nuova Francia nell'attuale Canada quindi era un personaggio francese di alto livello a cui diciamo viene dedicata questa particolare rosa abbiamo poi la rosa Lambert Clos una cultivar di rosa ibrida cordesi rosa intenso creata da la Sveida nel 1983 introdotta sul mercato nel 1994 come vedete è una rosa con questo cuore molto intenso e poi a sfumare verso l'esterno dedicata a Raphael Lambert Clos nato nel 1618 morto circa nel 1662 nato nell'Ardenne era un mercante quando sbarcò in Nuova Francia nel 1647 però poi divenne notaio nonché sergente maggiore di Guarnigione lui è conosciuto soprattutto lo vedete in questa statua che lo rappresenta questa statua in un luogo pubblico canadese ma conosciuto soprattutto per la sua attività nella lotta contro i rocchesi e lui morì proprio in un combattimento contro i rocchesi nel 1662 abbiamo poi la rosa Nicolas una rosa ibrida cordesi creata da Sveida nel 1983 introdotta sul mercato nel 1996 e stata introdotta sul mercato dall'agriculture Canada La Somchon Quebec quindi diciamo non fa riferimento ad alcun esploratore artico e non è neanche nota l'origine del nome applicato che diciamo è stato applicato il nome di Nicolas in occasione dell'introduzione sul mercato nel 1996 quindi forse è una rosa un po' avulsa dalle altre comunque molto bella e molto resistente abbiamo poi ancora una rosa dedicata a un esploratore la rosa Henry Kelsey una cultiva rampicante in questo caso di rosa ibrida cordesi creata prima del 1984 introdotta sul mercato nel 1986 questo signore che vedete qui sotto personaggio Henry Kelsey nasce vicino Londra in East Greenwich nel 1667 e muore sempre in Inghilterra nel 1724 fu un commerciante di pellicce esploratore e marinaio inglese e fu determinante nella fondazione della Hudson's Bay Company in Canada dove lavorò per quasi 40 anni queste grandi compagnie uno dei suoi viaggi più famosi avvenne nel 1690 quando esplorò l'entroterra della Baia di Hudson penetrando profondamente nell'attuale Canada questa esplorazione perché tutti naturalmente si tenevano più o meno sulle coste ma penetrare voleva dire entrare in contatto con le popolazioni indigene questa esplorazione quindi lo portò a essere uno dei primi europei appunto a vedere le grandi pianure del Nord America settentrionale e durante il suo viaggio proprio ebbe come si diceva contatti con diverse tribù indigene quindi in modo tale le sue relazioni e i resoconti delle sue spedizioni divennero poi preziosi per comprendere la geografia e la cultura delle popolazioni indigene dell'entroterra del Canada settentrionale durante il XVII secolo fu fondamentale i suoi racconti furono fondamentali altra rosa bellissima secondo me la rosa Louis-Juliet una rosa ibrida cordesi creata da Sveida nel 1984 introdotto sul mercato nel 1998 dedicata a questo personaggio che vedete Louis-Juliet non so il francese se si pronuncia bene così però prendete la buona 1645 la nascita attorno al 1700 alla morte è stato un esploratore franco-canadese è un personaggio particolare perché nel 1667 ricevete gli ordini minori dei gesuiti in Quebec ma preso dallo spirito avventuroso del tempo abbandonò gli studi e divenne un esploratore delle terre selvagge canadesi e poi anche commerciante con indiani quindi probabilmente era questa attività era molto più divertente che fare il gesuita in Quebec nel 1673 Juliet con Jacques Marquette un altro prete cattolico in questo caso furono i primi non nativi ad esplorare mappare il fiume Mississippi più superiore quindi era nell'animo evidentemente era proprio un esploratore e quindi Felicita Schweida diede a questa rosa il suo nome poi abbiamo la rosa Marie Victorin una rosa Victorin una rosa ibrida cordesi creata da Schweida nel 1984 questa prende il nome lo vedete lì sotto nella fotografia in bianco e nero questo fratello Marie Victorin che era un frate botanico canadese che si dedicò proprio allo studio e alla classificazione delle piante nordamericane fu anche professore di botanica all'università di Montreal e partecipò questo è importante alla fondazione del giardino botanico di Montreal quindi un personaggio che per la botanica aveva notevole interesse e quindi anche per Schweida qui abbiamo la rosa William Bot stiamo arrivando un po' alla fine delle rose degli esploratori la rosa William Bot una rosa ibrida cordesi creata da Schweida nel 1984 introdotta sul mercato nel 1997 chi era questo William Bot lo vedete lì nella foto lo vedete in primo piano seduto a braccia concerte con dietro tutti questi personaggi anche un po' con abiti particolari William Bot nato nel 1829 e morto nel 1912 è stato un predicatore inglese metodista nel 1865 insieme alla moglie Catherine Mumford fondò il movimento con scopi evangelisti ed umanitari denominato esercito della salvezza quindi il fondatore dell'esercito della salvezza del quale nel 1878 appunto divenne il primo generale in carico che mantenne fino alla sua morte la moglie come vedete è molto nello sfondo forse quella signora con il cappellino oscuro l'ha in fondo in fondo ecco come esercito della salvezza la moglie provvede a creare a fondare il movimento però è messa sullo sfondo nella prossima rosa Alexander McKenzie questa bellissima rosa rossa arbusto rampicante creata prima del 1985 ma è introdotta anche sul mercato nello stesso anno evidentemente era una rosa molto stabile dedicata Alexander McKenzie questo nasce nel 1764 muore nel 1820 nella cultura popolare canadese è stato un notevole esploratore ha vissuto nel mar artico nel pacifico proprio durante i tempi eroici delle scoperte e nel 1789 intraprese un viaggio epico lungo il fiume che oggi porta il suo nome cioè il fiume McKenzie lo ha navigato fino al mar glaciale artico questa impresa lo ha reso il primo europeo raggiungere l'oceano artico dal nord del continente americano successivamente attraversò l'entroterra del canada nella speranza di raggiungere l'oceano pacifico ma anche lui probabilmente senza successo attraversò le montagne racciose ma ecco da terra raggiunge raggiunse l'oceano pacifico diventando così il primo europeo a compiere questa attraversata proprio attraverso il territorio nord americano non via mare poi abbiamo questa rosa che è la rosa royal edward che è una rosa ibrida cordesi creata da Schweda nel 1685 elevata dal dottor Ian O'Hill nel 1996 è stata introdotta sul mercato con questo nome dall'agriculture Canada la Somchon Quebec nel 1995 perché ha nome perché royal edward è stata designata nel 1995 come rosa ufficiale del royal edward hospital che lo vedete qui sotto nella fotografia che era l'ospedale della McGill University a Montreal Quebec questo ospedale prende il nome del re britannico Edoardo VII figlio della regina Vittoria appunto da qui il nome royal edward poi abbiamo la rosa Simon Fraser una rosa ibrida cordesi creata da Sveida nel 1986 questo Simon Thoman Fraser nato nel 1776 e morto nel 1862 si era recato giovanissimo in Canada ed era entrato nella compagnia di Nord-Ovest per il commercio di pellicce con questa attività compì diverse esplorazioni nella colombia britannica seguendo fino alla foce sull'oceano pacifico il fiume che porta il suo nome il fiume Franger 1808 per trovare lui voleva trovare una rotta più diretta per il commercio delle pellicce rispetto alle rotte che erano più lunghe attraverso le montagne rocciose e anche più pericolose esplorò anche nel 1805 1808 i corsi di numerosi affluenti fra cui il Nehaco è la cui confluenza col Fraser fondò Prince George la città canadese poi abbiamo la ultima rosa di cui vi parlo che è la rosa George Vancouver abbiamo detto prima dell'importanza di Vancouver per il trattato George Vancouver la rosa è un'eibrida di Cordesi creata da Sveida nel 1994 Vancouver nato nel 1757 e morto nel 1798 era un capitano inglese meglio conosciuto per la sua spedizione del 1791 95 che esplorò e cartografò tutte le regioni della costa pacifica nord occidentale del nord america compreso anche le coste dell'Alaska contemporanea della Columbia Britannica di Washington e dell'Oregon prendendo anche contatti con le popolazioni indigene quindi è importante anche questo suo approccio ai nativi i suoi dettagliati resoconti e le sue mappe molto accurate furono poi quindi di grande importanza per il futuro sviluppo e anche l'esplorazione di quelle regioni George Vancouver è ricordato quindi come uno dei più importanti esploratori proprio a livello di esplorazione più importanti esploratori della sua epoca e il suo nome è quindi legato alla geografia della costa nord-occidentale del nord america ricordate non solo la città di Vancouver ma anche l'isola di Vancouver che è bellissima queste sono le rose degli esploratori ma qual era la metodologia della dottoressa Sveida per crearle nel vecchio campo prova di Ottawa lei osservò in particolare alcune rose arbustive particolarmente resistenti voi vedete il campo prova vedete un elenco di rose che lei aveva notato non avevano bisogno di grandi cure anzi diceva non ricevevano quasi alcuna cura le rose erano la frau Dagmar Hashtrup Therese Bounier Tetonka Belle Poté Venn Masa Gaming in particolare la schnetzberg e la rosa gallica da questa osservazione lei dedusse alcune cose intanto che pochi ibridi si confrontano bene con le specie genitrici che la rifiorenza e la resistenza invernale sono possibili nella stessa rosa come vedete qui sotto osservando dalle osservazioni della rosa schnetzberg poi paragonò la rifiorenza con la continua fioritura rifiorenza significa che fioriscono a maggio e poi rifioriscono in autunno invece ci sono altre che hanno una continua fioritura osservando le rose kinensis con periodi di fioritura da 7 o 52 giorni più indica una fioritura ricorrente in entrambi i ibridi diploidi e tetraploidi a qui ci addentriamo in un campo che non indicazioni per non addentrarmi in un terreno molto pericoloso per cui vi posso dire semplicemente chi sono questi diploidi e tretraploidi la maggior parte degli organismi è diploide che significa che hanno due copie di ciascun cromosoma uno proveniente dalla madre una dal padre quindi per ogni cromosoma c'è una coppia tetraploidi hanno quattro copie di ciascun cromosoma invece di due questo significa che anziché avere due versioni di cromosoma ne hanno quattro questo aumento del numero di copie cromosomiche quindi può portare a caratteristiche genetiche e biologiche uniche quindi questa tecnica quella di poter creare in laboratorio attraverso la manipolazione genetica ibridi tetraploidi con incrocio di specie diverse è una tecnica spesso utilizzata in agricoltura per sviluppare piante con delle caratteristiche desiderate come una maggiore resistenza maggiore resa pensiamo ad esempio al gran turco o cose del genere quindi in breve ibridi tetraploidi sono organismi o cellule con un doppio sede cromosomi rispetto agli organismi originali questa caratteristica quindi può avere delle pratiche molto interessanti nei vari campi della scienza dell'agricoltura perché consente di ottenere la pianta più resistente quella che si vuole la felicità sveida organizzò e stabilì un nuovo protocollo per l'ibridazione delle sue piantine intanto l'impollinazione all'aperto e ottenimento delle piantine cosa che non veniva fatta normalmente perché veniva fatta sempre in serra poi la valutazione di tre anni di alcune piantine come vi ho detto è un lavoro molto lungo quello dell'ibridazione poi ripeteva la valutazione per altri tre anni poi piantava le piantine quando avevano quattro cinque foglie come vedete nell'immagine di sotto nei vasetti quelle prescelte che le teneva più solide più con la foglia più sana più bella più le piantava all'aperto le rigava un po' naturalmente ma senza alcuna protezione quindi come voi vedete l'ibridazione è una scienza molto impegnativa ci vuole un'attenta osservazione una meticolosa tenuta dei registri perché bisogna registrare ogni mutamento ogni cosa che capiti a queste piantine e soprattutto pazienza l'ibridatore rileva quindi nei registri quali rose si comportano bene in determinate condizioni o mostrano gli attributi desiderati o quali no nell'allevamento controllato il giardiniere poi come vedete qui le fasi dell'ibridazione raccoglie sgrana toglie i petali alla rosa alla rosa padre diciamo ne libera il polline raccoglie il polline e lo spolvera sul pistillo della seconda rosa la rosa madre che ha come si vede dalle immagini poi creerà il frutto e poi i semi da cui poi partirà la semina della rosa Sveida però scelse anche un percorso più naturale talvolta consentì alle piante di fiorire impollinarsi naturalmente dagli insetti quindi questa impollinazione diciamo casuale probabilmente le ha consentito di notare delle rose che erano venute a crearsi poi molto più resistenti nel processo normale di ibridazione dopo che il genitore del seme fiorisce quando matura il cino rodo cioè la bacca che voi vedete sotto la rosa la bacca in autunno l'ibridatore l'apre e raccoglie i semi questa bacca si chiama il cino rodo il frutto della rosa raccoglie i semi li pianta poi inizia l'attesa potrebbero volerci dagli 8 ai 10 anni per vedere se la nuova varietà avrà successo quindi prova riprova perché naturalmente il secondo anno possono nascere delle rose bellissime ma le caratteristiche derivanti dalle piante piantate dai semi di queste belle piante possono non mantenersi nel tempo oppure possono virare ad una rosa completamente diversa perché i geni all'interno dei semi fanno il loro mestiere per cui ci voleva del tempo per capire che certe caratteristiche venivano mantenute prima di metterle sul mercato ovviamente con questo suo metodo Sveida riuscì a ottenere questi risultati cioè delle rose resistenti in generale per prima per tutto poi molto resistenti ai funghi cioè la macchia nera lo idio con due fioriture cioè rose rifiorenti che fiorivano a maggio fiorivano in autunno oppure con una fioritura intermittente anche tipo derivante diciamo anche dalle rose come quella che vedete nelle rose cinesi con la presenza di cinorodi soprattutto quella Jens Munk o Henry Hudson con la fragranza con un bel colore delle foglie autunnali perché anche dovevano avere un valore paesaggistico soprattutto nelle zone più fredde dove anche in autunno cioè la pianta doveva avere una propria bellezza quindi il dipartimento dell'agricoltura gli aveva chiesto di fare qualcosa di impossibile cioè creare delle rose così resistenti da sopravvivere a inverni con temperature che arrivavano a meno 50 gradi ma che fossero anche bellissime d'estate quindi la Sveida fu veramente determinata in questa ricerca e ci riuscì si prefisse anche alcuni obiettivi pratici di cui poi parleremo ma per proseguire al meglio il suo lavoro di bridazione questi obiettivi erano oltre che scientifici pratici cioè ad esempio stabilire terreni di prova in diverse zone del Canada inoltre spedì delle piantine anche a studi diciamo a gruppi di ricerca che erano anche negli Stati Uniti o in altri paesi anche in Europa quindi non si limitò soltanto alle diverse zone del Canada testò le sue rose in diversi luoghi inoltre provò a collocare queste rose anche in giardini consolidati queste prove queste rose di prova diciamo così anche in parchi in giardini che erano già strutturati riducendo così anche i costi delle prove incoraggiò i coltivatori di rose sia commerciali che privati ad esempio lei aveva grandi rapporti anche con ibridatori amatoriali per prendere parte li incoraggiò a prendere parte alle prove quindi per poter raccogliere un maggior numero di informazioni e da ultimo ma non ultimo valorizzò il ruolo delle società di rose canadesi nell'organizzazione di tutto questo di tutto questo di tutto questo lavoro per quello che di tutto quello che è stato elencato quindi valorizzò anche e promosse il ruolo di questa società di rose canadesi questo è molto importante nell'immagine che vedete qui c'è Felicita Shveida con la scrittrice Anne Hemsley Persons nella sua attività nel corso della sua attività infatti Felicita Shveida incontra diversi personaggi queste due in questo momento ammirano vedete nella fotografia la rosa che prende il nome dell'esploratore David Thompson rosa che Shveida ha creato appositamente fa parte del Rose Explorer per crescere al meglio nel clima canadese questa Emily Persons una giornalista e scrittrice ha scritto un articolo sulle rose create da Shveida nel numero di agosto settembre del 1987 di Canadian Geographic presentandole sia per la natura perché Canadian Geographic si dedicava alla geografia ma le presenta sia per la natura se vogliamo dire geografica del lavoro di Shveida sia per i nomi che l'ibridatrice aveva attribuito le sue rose resistenti cioè conosciute come le rose Canadian Explorer come abbiamo appena visto cioè appunto ognuna prende il nome da un famoso esploratore e la Parsons scrive del lavoro di Shveida lavorando con le naturali propensioni genetiche della rosa stessa ha superato le restrizioni climatiche sulla crescita delle rose del nord e poteva ben scriverlo dopo che la dottoressa Shveida fu andata in pensione nel 1985 qui lo vedete in una foto anzi a notta anche con altri amici e colleghi fu lei andò in pensione nel 1985 e il programma di selezione delle rose fu trasferito dalla fu trasferito nella stazione Agriculture Canada la Sonshawn Quebec dove Ian Ogilvy e Neville Arnold hanno continuato a produrre le rose della serie Explorer tra cui anche 12 piante che sono state ottenute in seguito dalla dottoressa sempre dalla dottoressa Shveida oltre alla serie Explorer Shveida pure in pensione rimase impegnata nell'attività botanica parlando a conferenze e scrivendo è autrice e coautrice di 39 articoli pubblicati su periodici scientifici specializzati e nonché di schede informative anche di un libro che vedete qui nella foto purtroppo un po' sgranata ma l'unica disponibile tanto per citarne alcune la Canadian Journal of Plant Pathology la Canadian Journal of Plant Science ma poi ha pubblicato su riviste specializzati in rose o commerciali come The Rosarian The Canadian Rose Annual della Canadian Rose Society perché queste società avevano la loro hanno tutte la loro rivista l'American Rose Annual dell'American Rose Society Canadex Landscape Trades quindi scrive però per questo suo grande lavoro è anche stata oggetto come ricordavo prima con Marcon è stato oggetto di un tributo alla sua opera da parte del dottor Patrick White alla convention mondiale della World Federation of Rose Society a Vancouver nel 2009 e siccome prima vi ho detto che io rappresento e ho fondato l'associazione e la compagnia delle rose sono onorata nel dire che la nostra associazione è uno dei cinque membri italiani della World Federation of Rose Society e quindi diciamo questa cosa che ho trovato questa notizia su Felicita Sveida mi ha particolarmente colpita e mi è piaciuta molto insomma ecco poi bisogna dire che Felicita Sveida anche in tarda età non smise di visitare Rosetti anche da vecchietta con un'amica andava girava per il mondo a vedere rose a visitare Rosetti qui la vediamo ad esempio durante una sua visita al rosetto di Baden famoso famosissimo Rosetto di Baden tra i conoscitori di rose e una meta da non perdere ed è qui con il direttore del rosetto il signor Weber che le dona degli acquerelli di rose dell'artista Felicitas Kuhn è veramente lei la vevi felice era già ammalata la vedete sulla sedia a rotelle ricevette diverse importanti onorificenze meritatissime onorificenze diciamo certificato di merito della Royal National Royal Society of Great Britain nel 1985 le vedete elencate il certificato di merito della Canadian Ornamental Plant Foundation nel 99 il dottorato di scienze onoris causa alla York University a Toronto nel 2000 ed è anche ovviamente patrona onoraria della Canadian Royal Society ci mancherebbe nel 2010 ha generosamente donato i suoi documenti personali la corrispondenza scientifica e anche la sua personale biblioteca alla biblioteca del giardino botanico di Montreal parlando di Felicitas Sveida non si può non parlare dell'explorer Rose Garden dove appunto si trovano le sue creazioni e del Central Experimental Farm di cui è parte quindi se voi andrete in Canada non mancate a Ottawa di visitarlo la Central Experimental Farm è stata fondata nel 1886 dal governo canadese era il fulcro di cinque stazioni sperimentali che erano state allestite in tutto il Canada in un'epoca in cui dobbiamo pensare che gran parte della popolazione del paese viveva della terra agricoltura quindi la maggiore ricerca era fatta in quel settore questo centro sperimentale da allora con diverse acquisizioni di terreno si ampia e questa azienda agricola occupa adesso oltre 400 ettari nel 1998 l'intera Central Experimental Farm è stata dichiarata sito storico nazionale un luogo di profonda importanza per il Canada quindi per loro è importantissimo l'explorer Rose Garden si trova presso questa stazione sperimentale lo vedete nell'immagine che ho tratto da Google Earth naturalmente e qui ci sono e poi a destra nella planimetria dove si vede che in questa parte del giardino della stazione sperimentale ci sono sia altre piante feonie altre altre il lilla ad esempio una grande collezione di lilà l'iris però c'è la parte dedicata alle rose degli esploratori explorer roses quella contornata in rosso ecco in questo rosetto ci sono tutte le rose create da Sveida e anche altre create utilizzando le talee dai cespugli proprio originali l'explorer rose garden è stato inaugurato ufficialmente nel luglio 2005 alla presenza proprio della dottoressa Felicita Sveida che vediamo qui con il suo simpatico capellino che direi accarezza queste rose e le rose di Felicita Sveida le rose explorer sono ancora attualmente sul mercato e si trovano anche online quindi se le volete se volete delle rose resistentissime resistentissime al clima freddo eccole qui sono in questi persino online cercate explorer rose e le trovate Felicita Sveida aveva pochi amici per dire la verità era un po' riservata forse il suo carattere austriaco un po' miteleuropeo era rimasto in profondità nelle sue radici tra questi amici però tra questi pochi amici c'era questo Harry McGee un scientist in pensione del consiglio nazionale delle ricerche canadese e lui descrive Felicita se dice con i suoi amici era estremamente leale era invariabilmente educata ma la persona media che la incontrava non l'avrebbe trovata affettuosa quindi voi immaginate questa persona un po' un po' diciamo tutta ad un pezzo ecco diciamo così però estremamente leale e molto caparbia non aveva famiglia in Canada e non si è mai sposata e dice il signor McGee la chiamavano la madre delle explorer roses dice McGee erano i suoi figli i suoi unici discendenti Felicitas muore a Ottawa il 18 gennaio 2016 all'età di 95 anni purtroppo a causa degli effetti del morbo di Alzheimer cosa dire io vi ho raccontato di questa di questa bravissima simpaticissima secondo me grande botanica questa grande creatrice di rose però oltre a Felicitas Sveida ci sono state come dicevo prima anche nell'introduzione ci sono state tante tante donne che hanno lavorato con e per le rose come dicevo erano spesso mariti titolari di Vivay che registravano i brevetti delle loro nuove rose rose che spesso erano frutto di mani femminili come quelle di Felicitas che di mogli figlie collaboratrici anche lavoro femminile però che non appariva quando mi è stato chiesto appunto di presentare un tema per l'Accademia San Marco ho pensato alle donne a quelle che ad esempio hanno speso una vita come Felicitas non per creare figli perché sembra che le donne debbano fare solo questo ma semplicemente creare rose questo che vi ho raccontato è solo vuole essere solo un piccolo tributo quindi non solo a una grande ibridatrice ma anche a coloro che talvolta nell'ombra hanno dedicato la propria vita alle rose per rendere questo nostro mondo un pochino più bello da vivere io ho finito e vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui grazie Anna Lisa torniamo anche noi ora in diretta grazie per questa descrizione di una vita totalmente dedicata alla scienza insomma dell'ombra l'altro ricordo ai quelli che ci stanno ascoltando ancora che hanno avuto la pazienza di sederci finora davvero completa la trattazione quindi probabilmente non ci saranno domande da fare ma qualcuno volesse alla vostra destra cioè la chat tramite la quale potete interagire avete potuto fare qualche domanda comunque questa registrazione rimarrà poi in età youtube e se ti fanno anche scrivere documenti in calce in futuro e noi le leggiamo saremo lieti di avere la vostra impressione e casomai rispondervi anche indifferita perché il vantaggio di questo strumento di questa piattaforma e di poter riascoltare rivedere la registrazione anche nell'anno di tempo non ci sono domande ma io volevo solo mettere una riflessione ne parlavamo prima fuori onda ed è una cosa che accomuna tutta la vita degli scienziati in realtà cioè quanta passione quanta frustrazione a volte ci sia anche in questa attività perché si pubblicano le scoperte si vendono gli libri che sono riusciti ma ci sono tanti fallimenti ci sono tante tante ore tanti anni tanti giorni passati sul campo prima di raggiungere il scopo quindi ho dato merito a Felicitas e a tutte le donne e agli uomini che lavorano nella scienza di questa loro pertinacia per raggiungere un risultato insomma questa tenacia questa capabilità sì questo è devo dire forse è proprio la scienza che lo richiede insomma in questo caso c'è una grandissima passione perché ovviamente per essere così capabilo ci deve essere sotto una passione che ti porta a proseguire anche quando sbagli quando il risultato non è quello che ti aspetti magari per qualunque motivo per quello dicevo si parlava prima di quel film La signora delle rose che è un filmetto leggero simpatico molto carino però anche che parla appunto della pazienza di questa di questa ibridatrice perché lei è un'ibridatrice e lo consiglio di Arnold Twinode mi sembra sia e parla proprio della della difficoltà di creare una nuova rosa di creare in un mercato spesso ecco questo è anche una cosa in un mercato spesso che è quello dei piccoli ibridatori in questo caso che ce ne sono di bravissimi anche maschi femmini ma sono veramente bravi ed hanno delle piccole attività di nicchia e talvolta sono schiacciati tra i grandi colossi di produttori di rose di ibridatori come si vede in questo film c'è il grosso produttore che fa milioni migliaia di rose di prove e questa piccola ibridatrice ne fa qualche centinaio quindi c'è la differenza e talvolta questi piccoli e bravissimi ibridatori restano quasi sconosciuti insomma ecco questo credo che sia importante e sono giovani moltissimi con la nostra associazione stiamo conoscendo degli ibridatori di rose giovani appassionati molto bravi che raccolgono anche il testimone di altre persone che hanno dedicato la vita alle rose ed è un bel campo un bel settore anche particolare per chi è appassionato è ancora un campo al quale che si può dedicare amatorialmente come capita ad esempio agli appassionati di astronomia che magari scoprono qualche stile o qualche passaggio con la passione di stare tutta la notte a vedere il cielo come diceva lui e lei provando e provando basta avere due rose e provarci e quindi è una buona cosa siamo ormai sull'ora e mezza di direzione forse Moreno è ancora no direi di chiudere ricordando Anna Lisa che abbiamo la fortuna che in provincia di Pordenone esiste un'associazione che si interessa a questi argomenti quindi chi chi vuole iscriversi alla compagnia delle rose deve cercarvi e probabilmente i riferimenti ci sono con pagine facebook con la compagnia delle rose diciamo noi digiti la compagnia delle rose e ci siamo e automaticamente possono avvicinarsi a questo mondo particolare va bene grazie di tutto Anna Lisa grazie a voi veramente vi ringrazio di cuore per questa opportunità perché penso che felicità dove si trovi sia contenta ciao contenta e attendiamo quindi l'esito delle tue ulteriori ricerche su questo catalogo di donne guidatrici a una prossima puntata magari più l'anno in tempo un nuovo appuntamento con i nostri spettatori dell'Accademia San Marco e di chiunque ci incontra anche per caso su questo canale youtube noi ci rivediamo penso in aprile con una nuova conferenza che stiamo organizzando forse per il professor Perforzi vediamo se riusciamo a organizzarla per adesso buona serata e a risentirci rivederci su questo buonasera a tutti arrivederci arrivederci